Sanzionato e denunciato un autotrasportatore, la cella frigorifera dove trasportava pasta surgelata non era giusta temperatura per la sicurezza dell'alimento. La Polizia, le ultime settimane, ha intensificato i controlli sulle condizioni del trasporto di sostanze alimentari lungo la rete stradale di competenza destinate agli esercizi commerciali del settore e poi su tavoli dei consumatori. Durante un posto di controllo hanno fermato un autocarro trasportante prodotti alimentari. Va precisato che per quanto riguarda la pasta surgelata questa dovrebbe essere trasportata ad una temperatura di meno 18 gradi. Nella fattispecie questi valori non potevano essere rispettati in quanto il frigo di cui era dotato il mezzo era spento e non funzionante e apparteneva comunque ad una classe ATP denominata Frax, per cui era adatto al trasporto di alimenti che devono essere conservati a temperatura superiore ai 0 gradi, quindi non idoneo al trasporto di pasta surgelata. Gli operatori al momento del controllo hanno trovato la pasta confezionata etichettata con l'indicazione di trasporto a temperatura a meno 18 gradi, mentre la temperatura rilevata all'interno della cella frigorifera risultava intorno ai più 18 gradi. Il conducente del veicolo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria. La pasta è stata sequestrata e poi ha posto i sigilli e nei confronti del titolare della ditta che effettuava il trasporto sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro. Successivamente la Procura della Repubblica di Siracusa ha convalidato il sequestro della merce e ne ha ordinato la distruzione. Il caso che abbiamo appena descritto non è isolato, anzi è stato osservato che il settore del trasporto di merci commestibili è suscettibile di varia irregolarità che ricadono sulla salute dei consumatori. Pertanto nelle prossime settimane i servizi di controllo sopraindicati saranno ulteriormente intensificati.